questa magnifica terra che è in grado di darci davvero delle cose straordinarie questa magnifica natura che se tenuta e curata con attenzione con rispetto non può che regalarci dei meravigliosi frutti abbiamo parlato dei cereali abbiamo cominciato a parlare dei cereali con stefania del latte la nostra amica nutrizionista torniamo con pippo gargiuolo invece buongiorno pippo a parlare di piante per i nostri balconi è inverno è un periodo così tanto particolare come temperature abbiamo visto la meravigliosa disponibilità del ciclamino se solo è curato con un minimo di attenzione ma ci sono ancora delle altre piante che possono essere piantate e tenute in esterno in questo periodo che insomma comincia ad affacciarsi il freddo quello vero queste magnifiche queste magnifiche panse violette è giusto o è sbagliato il termine non è sbagliato e la panse è chiamata anche viola del pensiero o violetta la viola mammola è sempre dalla stessa famiglia è quella che troviamo nei sottoboschi quindi quella più profumata di tutte quelle forse una delle prime la viola mammola una delle prime che il nostro i nostri le nostre città hanno conosciuto e quindi parliamo ora della panse e di altre piante che possono essere inserite piante fiorite che possono essere inserite nelle aiuole da settembre ottobre fino alla con la frittura fino al periodo primaverile inoltrato senti pippo io ti devo c'è qui qui ci stiamo divertendo a fare delle inquadrature perché la natura offre dei colori ci sono delle panse che sono con guarda aspetta è franco così ci divertiamo le facciamo vedere anche le nostre amiche a casa sono dei col e ti ringrazio di questo davvero davvero molto ci sono dei colori che sono qualcosa di straordinario spostiamo anche questa ecco qua così franco può anche divertirsi allora anche i gelsomini no dico il ciclamino qual è l'altra pianta che d'inverno va benissimo per essere piantata il ciclamino parliamo sempre di piante annuali o erbacei erbacei annuali per cui il ciclamino il gelsomino sono dei rampicante che difficilmente in inverno da si da fiori ho sbagliato ho sbagliato no no è un la che diamo anche ai ai nostri telespettatori pensavo no ho detto gelsomino ma pensavo il ciclamino è bello invece il gelsomino diamo un la magari per la primavera il gelsomino è il primo fiore si chiama il gelsomino nudi flore di colore giallo è il primo che dà la fioritura quasi a febbraio marzo ed ha un profumo ed ha un profumo meraviglioso fiorisce addirittura senza foglie da prima il fiore io ci sono dico bello e poi la foglia bello ecco la panse è un'altra delle piante ci sono anche qui c'è la panse è la viola del pensiero grande e la mini si quella la mini è un pochino più fiore più generosa nelle fioriture anche questa la letteratura dice che dai messaggi qualcosa che io so che tu sei un appassionato diciamo sul giacinto sul giacinto alla panse è bello dire che ecco la letteratura dice della panse che è una pianta che va messa in mezz'ombra un pochino come il ciclamino invece no dategli sole date di sole date mettetele in una parte soleggiata specialmente la varietà mini diventeranno dei soldatini che guarderanno il sole quasi come il girasole e manterranno se poi ecco la posizione è soleggiata fino al poco soleggiata perché poi arriviamo a giugno e la cosa diventa un pochino più pericolosa per la panse se la cosa è poco soleggiata nel periodo estivo continua ancora a fiorire la stessa cosa come il ciclamino continua a fiorire al nord continua fortunati loro che si tengono queste fioriture prolungate però noi abbiamo comunque la panse che va da settembre ottobre fino a maggio quindi questa troviamo i semi regolarmente come che consiglio puoi dare perché possa essere mantenuta correttamente il modo di di rinvasare è uguale è identico a quello che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto vedere per il ciclamino questo ora abbiamo la vaso di plastica per cui voltiamo ed esce ecco quindi e poi la prassi è sempre quella la panse sono molti colori significa pensami cioè pensa a me ora passiamo invece alle bulbose le bulbose che sono tantissime possiamo dire che se volete fare un pensierino carino 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 potete prenderla poi scrivere pensa a me non soltanto quello sono passati scarsi 35 anni io ho uno fiore di panse è giallo questo lo si usava staccarlo pressarlo nei libri aspettare che seccava e sopra scrivere ti amo ti ti voglio bene io ne ho uno regalato a mia moglie che ce l'ho ancora lì acqua quasi scassi 35 anni sta ancora lì bellissimo ecco perché pensami pensami veramente è una è un regalare una pianta di panse significa dire pensami bello la cosa bella ecco dei fiori e conoscere anche il loro significato una volta però la dobbiamo fare una puntata sul significato dei fiori certo come no entrare il problema che se entrano nei negozi vorrei dire questa frase poi dobbiamo trovarli tutti questi fiori però si trova di fronte a un esperto come te secondo si può fare si può fare poi per esempio delle bulbose abbiamo il giacinto abbiamo i tulipani di tanti colori tulipani chi non conosce il tulipano abbiamo i crocus che cos'è il crocus il crocus è praticamente il fiore dal quale si estrae lo zafferano senti ma quelli sono proprio bulbi perché le nostre amiche a casa ecco non ci sono marche da vedere sono soltanto i bulbi di quei fiori quindi ogni come dire ogni fotografia corrisponde al fiore che genera quel bulbo sì esatto per esempio sul sul giacinto abbiamo abbiamo già la posizione del bulbo sul terreno sul substrato chiamiamolo substrato terreno stiamo parlando dalla stessa cosa e qui abbiamo già in fioritura perché sono piante spinte in serra alla fioritura a crescere quindi pronti a essere vendute però le gli appassionati che vogliono piantare i bulbi questo è il momento per piantarlo questo anche fine ottobre se vogliamo una fioritura in inverno o in primavera per cui massimo ecco arriviamo ai primi di dicembre perché così si sposta la fioritura un pochino più verso la primavera quindi noi siamo in tempo visto che siamo ancora verso la fine di novembre siamo in tempo siamo esatto siamo ancora in tempo per piantare il i nostri i bulbi i bulbi che vogliono dare la la fioritura in primavera ecco il del giacinto mi voglio soffermare sul giacinto perché c'è una bellissima ha una bellissima storia il significato del del giacinto è gioco e divertimento quindi regalare un giacinto colorato significa giochiamo ecco è solare come 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 fiore come però ahimè a un colore del giacinto significa dolore questo c'è una leggenda dalla mitologia greca tu quasi la maggior parte delle piante i significati arrivano dalla dalla della meno delle piante antiche dalla mitologia greca e la leggenda del giacinto e quindi del suo nome ecco giacinto e apollo erano due apollo era innamorato di di giacinto ma gli dei no chiedo scusa giocando nel nel campo sul prato e si allenavano al lancio del disco ora zefiro un altro un altro un dio del dio greco è geloso di questo amore tra pollo e giacinto devia il vento così da portare il disco sulla tempia di di giacinto giacinto muore e lascia cadere chiaramente il sangue per terra apollo con lo trasforma in un in un fiore chiamato giacinto e chiaramente il giacinto rosso e vuol dire dolore però gli altri colori hanno tutti un altro significato perché giacinto era lì per giocare per divertirsi con il suo amante sai che non mi ricordo di aver visto mai un giacinto rosso ma esiste esiste c'è il giacinto rosso c'è il giacinto ecco questo qua non è rosso è porfora poi c'è quello rosa quello rosa simica il rosso è difficile raro è raro il rosso è raro mai esiste rosso non mi pare di averlo mai visto come 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 pianta comunque anche il giacinto è una pianta poi un'altra curiosità bellissima il tulipano tutti conosciamo il tulipano tutti conosciamo che deriva cioè viene dall'olanda la patria del tulipano no non è l'olanda la patria del tulipano è attualmente la patria del tulipano ma il suo significato cioè il significato più che lo intanto significa ti amo questo veramente poi non deriva dal dall'olanda ma dalla turchia significa tulipano turbante infatti la forma stessa la forma della forma della è una la forma del del turbante vero e la cosa è stata poi spostata in prima e poi in grecia poi in ecco è andata piano piano in olanda dove lo hanno adottato come fiore è un luogo proprio comune perché si è sempre detto che e significa che molti pensano alla rosa passione amore ma il tulipano ancora di più regalare il tulipano significa ti amo ma non soltanto la passione ma una passione disinteressata un amore sincero se lo si dà se si offre un un mazzo colorato di tulipani di tanti colori è l'amore in tutte le sue sfumature è molto bello quindi l'apoteosi del voler bene chiamiamolo così va con i tulipani di tutti i colori senti torniamo ecco ci siamo persi un attimino perché ascoltare queste storie è proprio bello però come lo dobbiamo piantare il bulbo benissimo ne avevi uno per le mani così secondo me facciamo vedere bene alle nostre amiche a casa che cosa devono fare qual è l'azione corretta un vasetto qualunque se usiamo il vaso usiamo sempre la parte drenante sotto il vaso è uguale e identico a tutti i rinvasi sotto il vaso ci vuole sempre la parte drenante riempiremo poi con il substrato specifico o del substrato l'importante che sia devono essere sempre tendenzialmente acidi mai alcalini perché se troviamo dei substrati alcalini abbiamo dei ecco la parte la parte dell'acqua del tubero o del bulbo della pianta viene assorbita dalla terra abbiamo il contrario e abbiamo in questo caso abbiamo il la foglia gialla il rachitismo sulla sulla pianta non cresce bene il problema dobbiamo riportarlo sul substrato quindi lo riempiamo lo riempiamo lo riempiamo lo riempiamo di substrato di terra prendiamo i nostri i nostri bulbi se sono già germogliati non dobbiamo piantarli molto in basso ma lasciare che i germogli fuoriescano dal terreno se invece non abbiamo il germoglio ecco qui e innaffiamo abbondantemente sempre quindi proprio il germoglietto deve uscire perché se mettiamo il substrato sul 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 germoglio rischiamo di fare un marciume esatto morire se non non abbiamo il germoglio allora deve andare almeno due centimetri tre centimetri sotto il livello del substrato per cui ammettiamo che non ci sia il germoglio due centimetri sotto non si deve vedere e innaffiamo acqua sempre in abbondanza sempre in abbondanza e quando abbiamo il quando avremo la la parte quando più fiorisce più acqua dobbiamo metterci però attenzione l'innaffiatura deve essere sempre condizionata dalla frequenza abbondante e aspettiamo che le piante il substrato si asciughino deve entrare sempre aria nel substrato è importantissimo poi quando una cosa importante è quando va via questi a tutti i bulbi quando vanno via i fiori non togliete subito il bulbo dal terreno dal vaso aspettate che tutte le foglie secchino perché in questo caso in questo modo la pianta il bulbo assorbe la riserva per la prossima germogliazione ecco senti quello che ti volevo chiedere no a proposito di queste piante d'inverno queste che noi abbiamo visto sono le più comuni quindi le pansè il ciclamino il giacinto ma esistono delle altre piante che possono essere tenute regolarmente in esterno e comunque garantire questa bella come dire questa bella sensazione di vedere fiori di vedere i colori ce ne sono delle altre magari sono meno conosciute ma che hanno il loro effetto certo e la ne abbiamo ne ho portate ne ho portata qualcuna qui questo per esempio qualcuno lo conosce altri no sono i cavolfiori ornamentali anche queste sono delle piante annuali delle erbacee annuali che è la loro bellezza è il non è il fiore perché non è questo questo non è un fiore questo è un fogliame colorato non soltanto il fiore deve dare bellezza di sé ma anche la foglia foglie colorate danno comunque colore noi quello che vogliamo nei giardini cos'è e il colore colore e ai giardinieri a pippo mi metti per favore del colore nel giardino non devo andare soltanto sul sul ciclamino o sulla pansè o sulla ma anche su piante colorate piante che abbiano del fogliame colorato composizioni magari in assemblaggio con piante colorate con fogliame colorato oppure abbiamo l'erica eccola guardate che bella che è questa l'erica che ecco questa che noi che si trova nei nostri negozi e viene chiamata impropriamente erica ma questa quasi chiama calluma vulgaris che è una sottospecie della dell'erica però è bella e anche questa dura tutto l'inverno questa acqua piantata piantata in ecco sempre in questo periodo è sempre fine ottobre per noi fine ottobre novembre dura la fioritura un paio di mesi due tre mesi ma non muore è un cespuglio che va avanti nella con la sua con la sua crescita infatti si vedono dei germoglietti oltre alla fioritura e la pronta per rifiorire nei mesi successivi all'estate senti pippo io mi rendo conto che più andiamo avanti e più la voglia di farti domande davvero incredibile anche se noi anche per questa mattina non abbiamo più tempo per esempio a me piacerebbe capire far capire le nostre amiche come devono essere tagliate come devono essere tagliati i rami secchi o le foglie che magari vediamo che non sono più buone se va bene tenerle o no abbiamo poi una serie di piante alle alle spalle del nostro amico pippo guardate oppure qui ce ne sono alcune che io per esempio non avevo proprio mai 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 visto questo tipo di piante qua io proporrei questo magari la settimana prossima ci facciamo una bella chiacchierata proprio su questo tipo di piante in modo tale che le nostre amiche sanno che possono scegliere anche nel periodo invernale delle piante che possono essere tenute magari anche in casa perché no sì non solo ecco il colore non ci vuole solo fuori in inverno ci vuole anche dentro casa perché non usciamo sempre fuori è bello vedere da da dentro fuori colorato ma anche bello vederlo dentro casa il colore ecco e tenerlo dentro casa quindi settimana prossima parleremo delle piante che si possono tenere in casa non solo verdi ma fiorite con dei colori dei colori magnifici come quelle che avete appena visto io ti ringrazio tantissimo grazie a te meri e buongiorno ai telespettatori grazie per questa tua come dire poesia ecco dedicata alla natura veramente è incredibile e l'appuntamento con il nostro amico sarà per la settimana prossima avete capito che una rubrica settimanale quella dedicata ai fiori e al pollice verde adesso invece la linea va alla regia per la terza parte di mattina amica con il mondo in un click 26 26 26 Grazie a tutti.